angelo buongiorno com'è in sicilia tutto a posto perché ci sono dei neri da favola guarda guarda vediamo andiamo a vedere guarda guarda guardate ragazzi che cosa ha beccato il mondo il mostruoso ant il mostruoso ant meteo guardate guardate che aereo tutti gli aereo si sicoli guardate che aereo si ha trovato antonio guardate guardate sono una fungaia impressionante qua stamattina dopo ha trovato quelli da stupendi di faggio guardate guardate la loro contentezza antonio acqua c'è un altro quanti sono quest'anno a quanto si è arrivato 14 antonio com'è antonio questa sicilia funziona funziona ok claudiuscio com'è funziona la sicilia io sentite bastone guardate grande luca grande grande guardate ragazzi questo è il più bello aereo se guardate guardate cosa ha trovato antonio guardate c'è troppa luce guarda 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 14 mostruosi che fungaia fungaia di neri siciliani trovata dal grandissimo santo sant'antonio ha fatto piovere in sicilia è venuto in ferie essere venuti a pappare tutti questi li dedichiamo tutti i neri agli amici del nord che stanno nella edulis al gruppo degli storditi a tutti i ragazzi che quando decidete di venire in sicilia siete sempre benvenuti a marcuzzo marrazzano a pino al principino no non li sembra brutto raccoglierli ad antonio non ci può credere dove ci mettiamo dove ci mettiamo dove ci mettiamo dove ci mettiamo a fasi adesso dobbiamo fare una cosa ok guardate con questa vi lascio ok amici questa è un'altra fungheretta siciliana noi vi salutiamo per il momento poi vedrete il film completo nel canale di antonio di claudio e di angelo a dopo facciamo ancora un giro Grazie a tutti.